Va bene, sono vivo per miracolo, una motocicletta tentando di sorpassarmi da destra, la bronte nella strada principale mi ha sbattuto, gli errori, gli stampa, gli errori, gli errori, sono vivo per miracolo, una motocicletta tentando di sorpassarmi da destra, la bronte nella strada principale mi ha sbattuto nello sportello, ammaccandolo e facendolo sganciare, e facendo sganciare lo specchio che per fortuna siamo riusciti ad agganciare di nuovo. Non sono venuti né polizia né carabinieri né vigili urbani. E' pare che sono vivo per miracolo, ok. Grazie. 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 Grazie.